Una settimana molto intensa anche questa, si è aperta con l'ultimo giorno di Mido, la grande fiera degli occhiali e la più importante fiera al mondo degli occhiali e lo è in particolare perché l'occhialeria è un'eccellenza italiana e non abbiamo soltanto il prodotto finito ma tutta la filiera. I primi mesi del 2023 per i quali sono disponibili i dati sono comunque andati molto bene con una buona crescita e pensate è un settore che esporta circa il 95% della produzione, quindi con tutte le incognite che sappiamo al 2024 si può guardare per quanto riguarda la filiera dell'occhialeria italiana con un certo ottimismo, la fiera si è chiusa con un aumento di visitatori e di espositori, quindi questi sono dati molto concreti. A proposito di fiere, a Milano si sono tenute le presentazioni della settimana della moda di febbraio che è la più importante, è quella dove vedremo le collezioni per l'autunno-inverno 2024-2025, giusto sì, si fa sempre un po' di confusione con le stagioni della moda e inizierà tutto il 20 di febbraio, martedì 20 di febbraio, in realtà la sera prima ci sarà la sfilata tradizionale di Laura Biagiotti al piccolo teatro di Milano e anche qui i dati sono positivi perché comunque il 2023 si è chiuso con un fatturato complessivo di oltre 100 miliardi di euro, è un settore che solo direttamente da lavoro a 600 mila persone, in crescita del 4% rispetto all'anno precedente. Poi naturalmente è iniziato Sanremo ed è veramente mai come quest'anno che io ricordi è stata l'occasione per promuovere sul palco, che è cosa ancora diversa dal promuovere sui red carpet, perché una volta che uno sale sul palco ci sta per qualche minuto, quindi per promuovere sul palco tanti marchi italiani di abbigliamento, di calzature, ma persino di gioielli e di orologi, in realtà non soltanto italiani. Ultima cosa da notare per questa settimana, sempre in tema molto economico, sono gli attesissimi risultati del gruppo Kering, che è il secondo gruppo del lusso al mondo, un quarto circa, meno di un quarto del fatturato di LVMH che resta il leader assoluto, il fatturato del 2023 è stato leggermente inferiore ai 20 miliardi e qui purtroppo rispetto a LVMH e a tanti altri marchi del lusso c'è stato un calo, un calo del 4% che è un calo che gli analisti si aspettavano e naturalmente l'amministratore legato e tutti i top manager del gruppo dicono che poi nel 2024 si tornerà a uno scenario più positivo. C'è da dire che rispetto a LVMH è già stato dato un dato sulla redditività e sono oltre 4 miliardi di EBIT, risultato operativo, quindi comunque si conferma anche con gli assestamenti interni e il rilancio di alcuni marchi che anche il gruppo Kering guarda al 2024 con un cauto ottimismo.